Ieri a otto e mezzo è stato il procuratore Gratteri a dire che strada non è adatto, non per ragioni giudiziarie, ma insomma che non è adatto alla Calabria. Quindi diciamo così, un'opinione che arriva comunque da una persona che fa un altro lavoro, ma comunque che conosce il territorio. È un'opinione autorevole, ma è un'opinione. Ce ne sono altre di segno esattamente opposto. Quindi lei non la condivide? No. No. Va bene. Allora vado dalla professoressa...